Sergio, conoscete Facebook, quella cosa dove si possono ritrovare amici che avete perso da dieci anni poi guardate un attimino e capisci perché hai perso questi maledetti su Facebook c'è un gioco tanto caro agli impiegati nostri che si chiama Farmville dove ci si può divertire, questi impiegati si divertono a fare i contadini, a piantare le carotte dico divertire perché se dovessero alzare veramente a sei e mezza di mattino dubito che si divertirebbero ma ci racconta questo momento fantastico un duo di Roma, Cacio e Pepe e Pepe Grazie, grazie Allora, scusate, io sono un tecnico, intanto facciamo un applauso ai ragazzi Grazie, grazie, così questo lo prendiamo, è una simpatia Sì, sì, allora, eccomi, sono arrivato Vedo una bella sfiga, no io non so, non so, né aggiustare il microfono né dire delle cose intelligenti quindi entro solo e vi dico, volete che mi rifaccia l'entrata, cosa che la dite? Che ne so, chiediamo al pubblico, no? Ricominciamo dalla cena, tutto da carico Ricominciamo dall'inizio, ok, voi fate che uscite, facciamo questa cosa, poi interattiva Grazie a tutti